Porta il figlio rosa, Presidente, porta il figlio rosa, porta il figlio rosa, porta il figlio rosa. I valori importanti come il sacrificio, l'aiutare i compagni, il rispetto dell'avversario, tutte cose importanti che servono un po' per tutta la vita. E niente, eccoci. La fine del campionato! Faccio un grosso in bocca al lupo all'inizio del campionato, divertitevi, cerchiamo di fare bene, di vincere, ci riusciamo, è un grosso in bocca al lupo all'inizio, è un forza più scasso e fredda. E chi non zatta?